È morto nella notte a Roma dopo una lunga malattia l'attore Vincenzo Crocitti, aveva 61 anni, caratterista di valore e calabrese di origine, aveva interpretato alcuni film e serie tv di successo, esordì a 28 anni con la parte dell'amato figlio di Alberto Sordi in un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli. Dopo una lunga carriera nella commedia all'italiana era diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo del dottor Mariano Valenti in Un medico in famiglia, su Rai 1, e poi con il personaggio del vicebrigadiere Bordi in Carabinieri su Canali 5. Grazie a tutti